161.000 euro per una cena è successo ad Abu Dhabi nel famoso ristorante di Murset e prendiamo computer, excel e analizziamola 5 beef carpaccio che sono costati 1200 dirham 312 euro se hanno comprato una carne super super top avranno speso 6 euro a porzione 2 golden ottoman le tomahawk che se le ha comprate male le ha comprate a 45 euro l'una le ha rivendute a 1400 euro ho 2 golden seart bistecche 1170 euro tutte ricoperte di oro ma poi quest'oro la mattina dopo dove va? 4 onion flour la cipolla, quella che viene fritta e diventa un fiore 83 euro costo totale sarà stato 2 euro abbiamo 15 golden baklava quella baklava che arriva in tavola e c'è il cameriere che tutta in maniera sexy te la apre 1547 euro se lo chef compra bendato l'avrà pagata circa 1 euro l'una un Heineken lui l'ha venduta a 14 poi è stato onesto col Negroni siamo in media con un rooftop di Milano 20 sacchi di paghi e poi ci sono questi famosi 7-8 Petrus che avrà pagato circa 45.000 euro comprandoli male su dei siti online avrà offerto anche un limoncello in totale è stato 161.000 euro commenta e dimmi cosa ne pensi il